ottimo quante zucchine avete a casa io ne avevo un paio le ho fatte a fettine ho iniziato a mettere sale e pepe poi ho aperto il frigo ho detto cosa ho nel frigo a sì c'ho della fesa di tacchino che ho affettato io la compro a pezzi e della provola dolce le ho rotolate ho detto beh vediamo in che posizione possiamo metterli perché qui si aprivano di continuo non volevo usare suzzicatenti allora ho iniziato a mettendoli così ma tanto poi cambio idea non vi preoccupate quindi ho messo sale e pepe e poi ho messo anche l'aglio in polvere su ogni fettina di zucchina e come vedete la la fesa di di tacchino che io ho affettato e anche la prova 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 la dolce che ho tagliato a pezzi siccome appunto sono leggermente intolleranti devo metterne proprio pochina pochina ma voi abbondate ecco qua vedete come l'ho disposta nel frattempo ho preparato una bella bresciamella leggera leggera fatta sempre con l'olio il latte quello completamente scremato io ne ho fatto circa 600 grammi ed è stata sufficiente quando ho coperto le mie zucchine ho detto no ma così sono anemiche prendiamo mezzo peperone rosso e gliel'ho messo sopra ma non contenta cioè ma stè facevi prima a metterci il sugo no con la bechamel e via no non contenta ancora cosa ho detto ok ho un'altra zucchina anzi due facciamoli a pezzettini in un pentolino senza acqua non serve perché tanto sì vabbè pochino di acqua ma proprio poca poca perché non la faccio cuocere molto ho messo il sale e e la cipolla mezza cipolla poi l'ho lasciata cuocere 45 minuti giusto il tempo che si ammorbidisse un po ho passato il tutto nel bicchiere del mini pimer no ho frullato il tutto infatti ho detto poca acqua perché l'acqua non la uso no no soltanto la zucchina l'acqua no ho frullato e adesso vi faccio vedere che cosa faccio quando io voglio vedere colore sapore sì ma anche colore in un piatto quindi abbiamo messo le zucchine la bechamel i peperoni a pezzettini e dulcis in fondo le zucchine frullate se le disponevo in modo diverso veniva fuori la bandiera dell'italia mamma mia ma ancora non contenta è certo cosa ci mettiamo sopra il grana grattugiato il parmigiano insomma del formaggio a pasta dura o per chi può mozzarella mozzarella sopra che quando vai a prendere poi che fai il piatto fila tutto che buono che bei ricordi ma qualche ricetta la devo fare con la mozzarella sì 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 assolutamente devo farla devo farla perché è troppo buona quindi in forno prescaldato a 180 gradi non bisogna aggredirla ci vorrà circa una mezz'oretta tanto ve ne accorgete sempre perché vedete fa la crosticina sopra e la zucchina non ci vuole molto a cuocersi e guardate un po sì è proprio una goduria è un mix di sapori è ma sapete è venuta proprio leggera buona buona a casa come sempre hanno gradito anche perché se no non gli faccio più da mangiare ok e questo è quanto fatemi sapere se vi è piaciuta ciao ciao alla prossima